Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuele Balboni, che mi chiede di parlare del film Dario Argento del 1971, Quattro mosche di velluto grigio. Sua terza opera è terza parte appunto della trilogia degli animali, che la chiuderà appunto perché il profondo rosso poi il titolo verrà completamente cambiato. Quattro mosche di velluto grigio, un film che da noi ha avuto una vita molto particolare, al di là del bel successo in sala, di una ottima Minsk Me Farmer nel ruolo di Nina Tobias, la moglie di Robert Tobias, il protagonista, interpretato molto bene. A Michael Brandon, appunto questo è un giallo, un thriller, nonostante ci sia anche qui qualcosa di onirico già presente, ma è un giallo abbastanza proprio all'argento, puro, con soggettive, guanti, omicidi e via dicendo. 1971 con l'anno sonora ottima di Morricone che voleva di Purple, che a quanto pare avevano già scritto qualcosa, ma che non poterano portare nulla proprio perché non prendevano i soldi, se no dallo Stato il film si faceva lavorare musicisti stranieri, quindi Agno Morricone un'altra volta. Ciengiatura totale di Dario Argento, gran bella fotografia di Franco Di Giacomo e un ottimo montaggio di Bonnotte per questo film, che è uno dei film che ha avuto appunto una vita strana. E' uscito ottimamente al cinema, poi dal 1992 in poi scomparì praticamente dopo gli ultimi passaggi televisivi per diritti d'autore ed è ricomparso, 15 anni dopo praticamente in DVD e finalmente siamo riusciti a rivederlo tutti come di comando perché c'era tutti più o meno una buacca registrata da Retevattro che non si vedeva un cazzo. Comunque la storia appunto è questo di Roberto, un batterista di una band rock che praticamente si sente seguito da questo personaggio, quindi una volta comunque accorto il nostro Roberto di essere seguito lo vuole andare a affrontare ghigna ghigna e poi per una colluttazione parte e il nostro ammazza praticamente questo diciamo stalker con un coltello. Noi vediamo che l'omicidio viene fotografato da una persona mascherata e di lì poi insomma il ricatto verso Roberto che chiaramente non ne vuol parlare con nessuno di questa cosa. Inoltre è afflitto da un incubo ricorrente dove una persona viene decapitata. Poi viene aggredito quindi dice quello che sta succedendo anche alla moglie e di lì insomma andrà da questo strano tipo di omete con qualche il quale lo avvicinerà a un investigatore che non ha mai risolto un caso e poi le vittime cominceranno a essere una dietro l'altra. Insomma non vi dico perché per come visto che è un giallo fino al bel finale. Allora un film sicuramente girato alla stragrande da Deleggento ancora con una mano fantastica. Ci sono le scene degli omicidi che sono un'altra volta arte e movimento, la pura visione della morte vista da un artista qui in piano in piano esplosione visiva, in piano apprisione artistica che riesce a donare ai personaggi la giusta forza ma soprattutto che riesce un'altra volta a donare con la sua narrazione filmica data dalla macchina da presa, dai movimenti, dall'utilizzo della musica, dal montaggio, tutta una serie di cose veramente interessantissime. Le quattro mosche di voluto grigio sono appunto le quali mosche rimaste nell'iri dell'ultima cosa prima che la persona fosse morta, è una cosa fantascientifica, questa così come altre cose ma qui veramente si vola altissimo sul piano appunto della messa in scena. Si parte subito con quella batteria, quel suono, insomma Proger, loro che iniziano a suonare alla stragrande, poi subito l'atmosfera si trasforma in qualcosa di diverso e incomincia ad essere sicuramente secondo me migliore del gatto a nove code, non dell'uccello del primo cristallo ma è un proto profondo rosso. Si insinano già cose abbastanza paranormali in un paio di situazioni, il modo oppurandi dell'assassino è più o meno quello e poi insomma la risoluzione è anche interessante. In tutto il film riesce a viaggiare alla stragrande perché Dario Argento gira con una mano incredibile, proprio le scene d'omicidio sono tesissime, il film è pieno di tensione, c'è anche una discreta ironia quando serve. Ripeto, la sceneggiatura è buona ma quello che colpisce veramente un'altra volta è la messa in scena, perché la messa in scena di Dario Argento non si fermava, continuava a portare avanti con piano sequenza, stedicam, macchina a mano, tutto quello che può essere utilizzato in questo film può essere utilizzato, nella parte di Diomedia appunto c'era Bud Spencer per un film molto molto particolare, ripeto, nella filmografia di Argento perché non un giallo perfetto, non un horror perfetto nel vero senso della parola, ma è uno di quei film in cui si insinua, come ho detto già, l'idea come poi si insinuerà in profondo rosso di un certo tipo di horror metafisico che qui prenderà piedi sia appunto nell'idea fantascientifica delle quattro mosche negli occhi, ma soprattutto anche nell'idea del sogno e in qualcosa insomma che starà a voi a vedere, perché questo è un film assolutamente da non perdere, non dico i film italiani, boom, uno dei film migliori di Dario Argento sicuramente, ed è un film che incredibilmente è andato a scomparire per un po', quindi ha creato un'aura di mistero per le nuove generazioni e ripeto, rivederlo poi dopo anni di distanza appunto nei DVD e tutto il resto, da adito e da forza, un film che forse all'epoca come tutto dell'Argento fosse sottovalutato e che invece rivederlo adesso a livello tecnico, proprio a livello di omicidi, a livello di come è costruita la narrazione, non è invecchiato di un giorno, quindi per me un film assolutamente era a vedere, che rimane caltissimo, è uno di quei film insomma che lasciano il segno un'altra volta e che dimostrano che Argento comunque in quel genere è veramente un maestro, il link è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del superi grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio, c'è il giro per l'Italia e 4 mosche di brutto grigio, è un acquisto obbligato per tutti quelli che chiamano il thriller.